Oggi vi parlo di quello che sta diventando un must have per la mia estate 2023. Sto parlando di quest'olio secco rassodante, l'or rosè di Melvita. È composto per il 99% da ingredienti di origine naturale, certificati biologici, vegani e made in France. Applicare due volte al giorno, mattina e sera, con movimenti circolari e tonici. Ma come vedete dal video, io lo utilizzo sul viso, perché adoro in estate utilizzare sieri, visi, tonici, qualsiasi cosa mi renda la pelle un po' più fresca, uniforme e compatta. Perché non amo molto truccarmi in estate, diciamoci la verità. Io lo spalmo sul viso per qualche minuto e poi l'eccesso lo vado ad applicare sui capelli, perché sì, si può utilizzare anche sui capelli, quindi ve lo portate al mare, ve lo spalmate dove volete. Adoro questi prodotti multifunzione. È arricchito con bacche super, bacche rosa, pepe nero e mirtili rossi. Affina la silhouette, aiuta a ridurre l'aspetto buccio d'arancia e levi che resta dalla vostra pelle. Io lo sto adorando e lo sto provando quasi ogni giorno, mi ci sto trovando benissimo. Ha un profumo super delicato, lo adoro.